Non solo Erika Pioletti. A lottare per la sopravvivenza dopo i fatti di Piazza San Carlo si trovano ora anche due coniugi, Vincenzo Dingeo, 66 anni, e Marisa Amato, 63. In quella drammatica sera delle 3 giugno stavano facendo una passeggiata e non avevano particolare interesse per la finale di Champions League, finché non sono stati travolti anche loro dalla folle impazzita. Ora la coppia è ricoverata in due ospedali differenti. Marisa si trova alle Molinette, dove è stata sottoposta a due interventi chirurgici per una lesione cervicale e forse non potrà tornare a camminare. Vincenzo invece è al San Giovanni Bosco, dove ha riportato un trauma cranico e numerose fratture. Le sue condizioni al momento sono considerate critiche e soprattutto impeggioramento. Mi ripeteva che stava morendo, che dovevo cercare mamma e non preoccuparmi tanto di chiamare soccorsi per lui. Così hanno raccontato, dopo giorni di silenzio a proposito del loro padre, Viviana e Danilo, i figli di Vincenzo e Marisa. Hanno deciso di parlare, spiegano, per evitare che sfumi l'attenzione attorno alle sorti dei feriti. Le situazioni rimangono critiche, nostra madre è in prognosi riservata e non ci hanno ancora detto ciò che succederà, affermano i figli, ma le autorità sono state comunque molto presenti e si sono fatte sentire spesso. Gli interventi tecnicamente sono andati bene, hanno spiegato. Ora però chiediamo che resti viva questa solidarietà, perché ci serve anche concretamente e non solo come sostegno morale.